Ciao, sono Gio Pizzi, faccio le voci divertenti e ora sono incazzato come una biscia. Ciao amico mio, forse è la prima volta che mi vedi in carne ed ossa. Io sono Gio Pizzi, sono quello che fa le voci allegre, sono quello che tiene su questo canale e sono molto molto incazzato, te lo assicuro, io non sono assolutamente una di quelle persone che fa i vlog a chiappa click, soltanto per tirare su qualche appunto click, ma sono una persona e come tale sono una di quelle persone che ogni tanto c'è qualche cosa che gli fa davvero uscire fuori dai gangheri. E che cos'è quella cosa che mi fa uscire completamente fuori dai gangheri? La mancanza di rispetto, la mancanza di rispetto, chi cazzo sei? Non sono nessuno ma ti spiego. Devi sapere che c'è una grandissima ignoranza, una grandissima mancanza di comprensione di questo mezzo e della gente che usa questo mezzo attivamente, sto parlando dei creatori di contenuti. Gio, che cosa cazzo stai dicendo? Perché ti stai lamentando? Mi sto lamentando del freebooting. Che cazzo è il freebooting? Allora, definizione, il freebooting è la pratica di prendere i video, ricaricarli da YouTube e ricaricarli all'interno delle proprie pagine Facebook e condividerli eccetera eccetera. Ora lo so cosa stai dicendo, aspetta, 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 sei uno YouTuber e credo che la cosa più importante per te sia il fatto che il tuo video venga condiviso il più possibile, giusto? No! Assolutamente no. Perché? Perché devi sapere, caro il mio amico normalone, A noi YouTuber le cose vanno effettivamente bene quando i nostri video vengono certamente mi piacciati, condivisi, commentati, spammati in giro, ma dai nostri canali YouTube, dalle nostre piattaforme Facebook, dai nostri canali Twitch, dai nostri cosi Instagram, non certo se ricaricati da una grande bella pagina Facebook. Perché vedete ragazzi, c'è una categoria di persone che si spacciano per gente artistica, che gente con gusto e tutte queste persone sono gli amministratori delle pagine Facebook. Sto parlando delle più importanti pagine Facebook italiane, non farò nomi certamente, ma dovete sapere che l'amministratore di una pagina Facebook è una persona tendenzialmente senza alcun talento artistico, senza nessuna capacità, senza nessuna... senza nessuno spirito, senza nessuna voglia, tranne la voglia di avere i click. E qual è la via più facile per avere qualche bel click? Ti basta rubare i video di YouTuber bravi. Ed è questa la cosa che ci uccide. Perché devi sapere, caro mio amico, noi, creatori di contenuti su YouTube, cerchiamo certamente di costruirci una vita attraverso YouTube, una vita fatta appunto di arte, una vita fatta di studio, una vita fatta di ricerca continua, di costruzione di un canale che aumenti nel tempo la propria qualità. Per esempio io ho iniziato a fare i doppiaggi, già dobbiamo appunto le cazzo di parodie dei Pokémon con cui appunto sono arrivati i primi 100.000 iscritti. Dopodiché cosa ho fatto? Ho cominciato a fare dei vlog, ho cominciato a fare dei vlog in cui parlavo di società politica, editoriali video in cui parlavo di elezioni, di correnti artistiche, di roba, e di recente ho cominciato a fare cose come per esempio Zuckerberg che parla davanti alla commissione, Kronk che si trasforma in Di Maio, eccetera, 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 e quella è roba che comunque aumenta, portiamo sempre la sticella più in alto. E di conseguenza questa cosa è stata supportata perché c'è gente che mi supporta sia economicamente, perché, non so se lo sai, ma su YouTube la gente che può vivere, diciamo proprio vivere, tutti quanti tirano su 2 euro su YouTube, ma gente che può effettivamente vivere su YouTube Italia si possono contare sulle dita di una mano monca. Cioè, senza dita, no? Capito? Comunque. Mentre, se per caso il nostro lavoro, il lavoro mio e il lavoro di altre persone, perché siamo tanti di questi creatori di contenuti, vengono rubati, la pigliamo un tantino nel culo. Ora tu mi starai dicendo, ma Gio, ho capito, ma scusami, voglio dire, non potete denunciare queste persone, non so, mandate una segnalazione? Certo! Certo che possiamo, noi possiamo tranquillamente mandare una segnalazione a queste pagine di Facebook e dirgli, ehi, che cazzo, non è possibile, è negro, che è una... Certo, ma il periodo in cui noi mandiamo questa denuncia, questa denuncia arriva a Facebook, e Facebook si aggiorna, fa le cose, passano una cosa come due o tre giorni. Ora, io te lo dico molto sinceramente, la vita di un video su YouTube ha la durata di una giornata, se va bene due, tre, se è proprio un gran bel video. Dopodiché la cosa muore. Ora, nel momento in cui questo video viene pubblicato, fanno i miliardi di click su Facebook, eccetera, eccetera, e noi invece rimaniamo con un pugno di mosche. E quindi io spero che tu capisca che io e tutti quanti gli altri creatori di contenuti la pigliamo molto, molto nel culo. Ed è una cosa che mi fa saltare davvero il cervello. Ora, io vorrei dirti una cosa molto semplice. Secondo te, perché questi amministratori, queste pagine, o anche semplici ragazzini di merda, scaricano il loro cazzo di video da YouTube e se lo rimettono sulla loro cazzo profilo merda? Perché? Per ottenere il mi piace, assolutamente, ma c'è un motivo a monte. C'è una grandissima mancanza di rispetto verso tutto quello che è artistico. Artistico è certamente una parola grossa qua su YouTube, ma c'è, e vi assicuro che c'è. Tutto quello che ha a che fare con un mestiere che non è convenzionale, c'è un'enorme mancanza di rispetto, non c'è la comprensione. La gente semplicemente non sa il culo che noi ci facciamo permettere questa roba online gratuitamente. Perché YouTube è gratuito, ti becchia una pubblicità ogni tanto, ma è gratuito. Ora, io detesto, detesto tutti quanti i creatori di contenuti che dicono eh, però io mi faccio un culo come una casa, io ho fatto un sacco di video, io sono uno che... Perché solitamente sono tutte quelle persone che si fanno, sì, certo, mezzo culo, poi lo seguono in quattro persone, e... Però davvero, ragazzi, cioè, cosa credete? Che... che noi, che facciamo questo mestiere, cerchiamo di trasformarlo in un mestiere, facciamo le cose così per sport? Lo facciamo perché ci sentiamo dentro qualcosa, e lo vogliamo condividere, perché vogliamo essere perché vogliamo creare qualcosa, perché ci piace, perché ci diverte, ma ci facciamo un culo grosso come una casa. Ne stavo parlando l'altro giorno con The Pruld, che molti di voi conosceranno, e lui mi diceva che si sveglia la mattina e sta al computer ore e ore e ore, tutta la giornata per lavorare, e io faccio lo stesso quando non devo, appunto, andare al lavoro. E... è una cosa che mi manda fuori di testa. C'è una totale mancanza, una grandissima ignoranza, perché si tratta di questo, si tratta di ignoranza verso questa nostra categoria. E quindi lo so, qualcuno di voi magari si starà chiedendo, Maggio, quindi allora, io che cosa posso fare per aiutarti? Perché magari qualcuno ha voglia di aiutarmi. Molto semplicemente. Infatti, come fanno già molti ragazzi, che li ringrazio davvero tantissimo, che vengono da me, mi scrivono su Facebook, su Instagram, e mi dicono che il mio video è stato ricaricato su un'altra pagina. Se vedete il video di un autore che conoscete ricaricato da una pagina del cazzo, per esempio, video divertenti LOL XD con i banneroni, che mi hanno detto, non sai no, i banneroni neri, le tre faccine, guarda, non riesco a smettere di ridere, che gli venisse la pellagra, non commentate, non create coinvolgimento, non condividete, semplicemente scrivete a quella pagina e gli dite Oh! Eeeh! E loro... Perché è diverso? È diverso. Ragazzi, scusatemi lo sfogo, io detesto il video sfogo, io 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 non li sopporto, è una cosa che mi dà proprio fastidio. Però vi assicuro che per noi, che cerchiamo di costruire questo mestiere, che cerchiamo di costruire questa comunità, la sentiamo questa totale ignoranza da parte di questa community di merda YouTube Italia. Ragazzi, vi svelo un segreto, vi svelo un segreto che è proprio tra youtuber. Noi youtuber odiamo questa community, la odiamo! Odiamo tutti quanti, la stragrande maggioranza della gente che lascia i commenti, della gente che condivide, perché sappiamo che è una comunità fatta di ignoranti, di ignoranti! di ignoranti che non rispettano il lavoro degli altri, di ignoranti che insultano, di ignoranti che non hanno la minima buona creanza e il rispetto. Certo che c'è gente per bene, assolutamente, certo, se no non ne varrebbe la pena e amiamo il nostro pubblico, certamente, ma noi sappiamo che questa è una community fatta di rincoglioniti, non soltanto italiana, per carità, il mondo è paese, di tutto quanto il mondo, il mondo fa schifo. Cioè, porca puttana, quando vedi cazzo di video, per esempio, le 10 cose più strane della birreria vaffanculo e 400 milioni di click, capito? Che bella community di merda! La roba mediana piace a tutti, siamo tutti quanti ignoranti, però ragazzi, io vi assicuro, questa community fa schifo e la gente, soprattutto qua in Italia, non ha il minimo rispetto verso, verso, verso questa categoria di persone. Detesto questo discorso della serie non mi si porta rispetto, noi non siamo nessuno. non siamo nessuno, certamente, però siamo persone che stanno cercando di costruire qualcosa, non siamo certo gli ultimi degli stronzi, siamo gli ultimi degli stronzi, ma non siamo gli ultimi degli stronzi, porca puttana! C'è gente che ci lavora con questa roba qui! Quindi scusatemi, scusatemi, scusatemi per tutti quanti voi che appunto vi aspettavate il video divertentone e magari avete anche riso e ci sono... quindi appunto magari alla fine qualcosa a casa abbiamo portato. Però, scusatemi, io non le faccio queste cose, ma dovevo farla. E se per caso invece sei tu uno di questi amministratori di queste pagine di Facebook, mi dispiace, mi dispiace che tu non hai alcun talento, mi dispiace che non hai la benché minima qualità artistica, mi dispiace che tua madre è troia e che da piccolo ti accarezzava col mattarello, mi dispiace che tu sia un così coglione, mi dispiace, ma devi... vi ringrazio molto per avermi seguito ragazzi, noi ci vediamo tranquillamente domenica con il classico doppiaggio, ci vediamo mercoledì che faccio uscire un'altra figata e mi raccomando, se questo video vi è piaciuto o volete espormi la vostra opinione, perché appunto almeno parliamo di questa roba qua, lasciatemelo nei commenti, il vostro simpatico commento in cui mi spiegate le cose. Vi ringrazio ancora per l'attenzione e niente, questo è tutto, pezzi out. Quanto li odio, porca troia, vaffanculo! Mamma mia, che uno si fa un culo quando ne cadono al taraccio e loro li possono ammazzare.